ciao ciao a tutti bentornati nei miei canali sono miss giulia questo video tutorial in collaborazione con il sito beat park andremo a realizzare una sferetta l'ho chiamata sfera di luce 3.0 qui nel mio canale ovviamente troverete anche la prima versione e anche la seconda versione adesso vi mostro come realizzare la sfera di luce 3.0 che è questa qui davvero molto molto carina e poi vi mostro anche come poter utilizzare questa sfera di luce ho realizzato questo bellissimo bracciale vi lascio ovviamente al tutorial della sfera di luce e ovviamente poi come vi dicevo prima sul mio canale troverete anche in descrizione di questo video anche il tutorial della sfera di luce 2.0 e poi potrete realizzare anche voi il vostro bracciale sfera di luce vi lascio ai materiali ciao il materiale per poter realizzare la sfera di luce 3.0 è il seguente fondamentale sono le ovaline le ovaline misura 6 per 4 mm sono delle ovaline in vetro ma vanno bene anche le ovaline in conchiglia questo è il codice sul sito di beat park poi ovviamente tutti i link vi lascio anche in descrizione e per realizzare la sfera di luce 3.0 avrete bisogno esattamente di 25 ovaline mentre la versione 2.0 era realizzato soltanto con 15 ovaline poi avrete bisogno dei cipollottini questi andrò a scegliere questa colorazione di questo emerald questo è il codice misura 4 per 3 mm e questi appunto ci serviranno come decorazione centrale della sfera di luce 3.0 e poi ovviamente le perline le perline della stessa tonalità le sto utilizzando 15 11 e 8 0 ovviamente all'interno della sfera di luce è presente questo supporto questa ovalina in legno questo qui è il codice e misura appunto 12 per 8 mm ed eccola qui questo è il materiale davvero semplicissimo vi lascio al tutorial come filo sto utilizzando un filo di nylon da 0,16 mm un buono filamento colorazione crystal e come ago sto utilizzando un pony inserite esattamente 5 rocaille 11.0 sul vostro ago le portate alla fine del filo rientrate con l'ago in direzione opposta in tutte le perline chiudendo la lavorazione a cerchio ed effettuando appunto tre nodini questo è il risultato ho unito anche due fili con un altro piccolo nodino in questo punto adesso inserite questa sequenza ed eccola qua sono sei ovaline intervallate da 5 rocaille 8 0 quindi bisogna iniziare con l'ovalina e finire appunto con l'ovalina questa è la sequenza adesso vado a infilare l'ago esattamente nella prima 8 0 in questo modo nella prima 8 0 inserita e chiudo appunto la lavorazione a cerchio così adesso ripasso nuovamente nell'ovalina e nella rocaille 11.0 qui in alto adesso inserite un'ovalina sul vostro ago e rientrate nella 8 0 nella seconda 8 0 questa rientrate di nuovo nell'ovalina appena inserita e rientrate nella 11.0 che viene subito dopo cioè questa questa qui e questo è il risultato adesso ovviamente vado ad inserire una nuova ovalina queste due 8 0 le ho lavorate quindi vado nella terza 8 0 cioè questa rientrate ovviamente nell'ovalina e nella nuova rocaille 11.0 quella che viene subito dopo vedete il filo fuoriesce da questa e io rientro sempre nella rocaille 11.0 che viene subito dopo cioè in questa qui e stringo bene il filo vedete che la lavorazione si presenta in questo modo adesso ovviamente inserisco una nuova ovalina rientro nell'auto 0 rientro nuovamente nell'ovalina appena inserita e nella nuova 11.0 in alto l'ultima ovalina infilo lago nell'ultima 8 0 inserita di nuovo lago nell'ovalina e nell'ultima 11.0 in alto cioè questa qui questo è il risultato come vedete ho inserito appunto le cinque ovaline qui in alto adesso vado a decorare questa parte e inserite esattamente due rocaille 11.0 e tre rocaille 15.0 io mi ritrovo a fuoriescire da questa rocaille qui in alto questa 11 e rientro nella 8 in basso in questo modo adesso inserite nuovamente tre rocaille 15.0 e due rocaille 11.0 alternate appunto questa sequenza e rientrate nella 11.0 qui in alto in questo modo ritornate con lago esattamente in queste due rocaille 11.0 sono nelle prime due inserite tre rocaille 15.0 e rientrate con l'ago nell'auto 0 qui in basso ok e abbiamo decorato appunto il primo lato adesso vado avanti con la lavorazione inserendo sempre tre rocaille 15.0 due rocaille 11.0 rientrate ovviamente nella 11.0 qui in alto in questo modo rientrate nelle due rocaille 11.0 e inserite tre rocaille 15.0 e rientrate nella 8.0 qui in basso ok in questo modo vado a decorare ovviamente tutti i lati ricordando appunto che l'ultimo lato già è presente qui un lato della decorazione bisogna soltanto risbucare da questa 8.0 inserire tre rocaille 15.0 e rientrare in queste due 11.0 ovviamente inserite anche l'ago in questa rocaille 11.0 rientrando appunto con l'ago in direzione da destra verso sinistra in modo da poter collegare questa decorazione in entrambi i lati come abbiamo fatto appunto qui vedete questa decorazione è collegata appunto da entrambi i lati realizzo questa decorazione e ritorno da voi questo è il risultato dopo aver completato appunto tutte le decorazioni ovviamente l'ultima decorazione mi sono rinfilata in questa perlina andando da destra verso sinistra poi sono ripassata in queste due 11.0 in queste 3.15 nella 8 e appunto fuoriesco da questa ovalina in questo modo adesso inserite esattamente tre ovaline sul vostro lago e sul vostro filo ed eccole qua rientrate nella medesima ovalina andando in direzione opposta ed ecco qui in questo modo inserite l'ago nella 8.0 e nell'ovalina adesso inserite esattamente due ovaline ed eccole qui rientrate con l'ago in questa ovalina qui sporgente nella 8.0 e nella 8.0 e nell'ovalina successiva inserite altre due ovaline ed eccole qua e rientrate sempre nella perlina sporgente nella 8.0 e nell'ovalina stringete bene il filo in modo che la lavorazione si presenta appunto in questo modo ed eccola qua adesso rientrate di nuovo nella 8.0 e nella nuova ovalina inserite due ovaline nuovamente inserite due ovaline nuovamente rientrate sempre nella perlina questa qui sporgente nell'ultimo lato nella 8.0 e nell'ovalina da dove fuoriesce appunto il filo e questo è il lavoro al momento adesso rientro nella 8.0 e nell'ovalina in questo modo rientro anche in questa 8.0 qui risalgo in questa ovalina qui laterale e a questo punto devo inserire solamente una sola ovalina per andare a chiudere tutti i lati e a completare ovviamente questo giro perché un'ovalina già è presente qui nel lato una già è presente alla base e un'altra già è presente a quest'altro lato quindi io rientro nuovamente nell'ovalina questa qui laterale nella 8.0 qui in basso nell'ovalina questa qui della base ok in questo modo rientro nella 8.0 laterale e risalgo nuovamente in questa ovalina qui laterale ok in questo modo stringo per bene il lavoro e questo è quello che mi ritrovo ovviamente è morbida la lavorazione qui in alto non vi preoccupate dopo con i successivi passaggi tutto andrà a sistemarsi ok questo è il risultato avrete qui in alto sempre cinque ovalina uno due tre quattro e cinque ovaline e qui nei laterali appunto quattro ovaline collegate a tutti i lati adesso io mi ritrovo in questa ovalina qui laterale rientro anche in questa ovalina qui questa in alto ok inserite una 8.0 e rientrate nell'ovalina che viene subito dopo cioè questa ok fate questo passaggio ovviamente per tutti i lati quindi di nuovo una 8.0 e arrivato nell'ovalina che viene subito dopo a questo punto devo ricreare la stessa identica lavorazione anche dall'altra parte quindi inserite io fuoriesco ovviamente da una 8.0 inserite un'ovalina e cinque rocaille 11.0 le portate alla fine del filo in questo modo ed eccole qua rientrate in queste cinque rocaille 11.0 andando in direzione opposta quindi chiudendo appunto la lavorazione a cerchio quindi ripasso in tutte e cinque rocaille 11.0 ok in questo modo vedete sono ripassato appunto nelle cinque e adesso rientrate rientrate nuovamente nell'ovalina questa qui e rientrate anche nell'8.0 ovviamente nell'altro lato perché qui fuoriesce il filo e quindi rientro dall'altro lato per collegare per bene l'ovalina a questa 8.0 in questo modo adesso rientro nuovamente nell'ovalina e nella 11.0 qui in alto stringo sempre per bene il filo e adesso nuovamente prendo un'ovalina e arrivato a collegare con le 8.0 per poter appunto realizzare la medesima lavorazione che abbiamo fatto anche dall'altra parte quindi rientro nell'8.0 rientro nell'ovalina e mi rinfilo nella nuova 11.0 che viene subito dopo cioè questa vedete io fuoriesco da questa accanto e quindi rientro in quella nella 11.0 che viene subito dopo ovviamente vado avanti con questa lavorazione ricordando ovviamente di inserire questo supporto all'interno in questo modo e poi inserisco ovviamente le altre ovaline per completare questo passaggio effetto questo passaggio e ritorno da voi questo è il risultato ho inserito appunto le 5 ovaline qui in alto e questo è come si presenta al momento il lavoro adesso questa decorazione che ho fatto qui in basso con rocaille 11.0 e 15.0 vado a effettuarla anche qui in alto quindi io fuoriesco ovviamente da 1 a 11.0 qui in alto inserite 2 rocaille 11.0 e 3 rocaille 15.0 e rientrate nella 8.0 e poi andate avanti a decorare anche questo lato qui in alto io effetto questa decorazione e ritorno da voi questo è il risultato ho decorato anche la parte qui in alto e questo è come si presenta adesso la sfera di luce a questo punto io ho decorato ovviamente anche l'ultimo lato qui sono ripassata nell'ultima 11.0 sono riscesa nelle 2 11.0 nelle 3 15.0 e mi sono appunto posizionata in questa 8.0 qui adesso inserite 2 rocaille 11.0 un cipollottino da 4 per 3 e 2 rocaille 11.0 io fuoriesco da questa 8.0 e rientro in questa 8.0 in basso in questo modo adesso giro la lavorazione inserite nuovamente 2 rocaille 11.0 un cipollottino e 2 rocaille 11.0 ed eccole qua io fuoriesco da questa e rientro nell'auto 0 qui in alto adesso nuovamente la sequenza 2 11 il cipollottino e 2 11 e rientro ovviamente nell'auto 0 qui in basso ovviamente continuo con questa lavorazione anche in questi altri 2 punti quindi inserite la sequenza e rientrate nell'auto 0 qui in alto di nuovo sequenza e rientrate nell'auto 0 qui in basso questo è il risultato al momento inserito appunto un cipollotto in tutte queste piccole caselline e questo è il risultato adesso mi ritrovo a fuoriescire da questa 8.0 qui in basso inserite 2 rocaille 11.0 ed eccole qua e rientrate solo nel cipollotto andando dal basso verso l'alto in questo modo di nuovo 2 rocaille 11.0 e rientrate nell'auto 0 qui in alto ed ecco qua ho decorato appunto questo lato vado avanti con questa decorazione inserite 2 rocaille 11.0 in questo caso l'ago vado ad inserirlo nel cipollotto dall'alto verso il basso ok di nuovo 2 rocaille 11.0 e rientro nell'auto 0 qui in basso e ho completato anche il secondo lato vado avanti quindi 2 rocaille 11.0 e rientro dal basso verso l'alto nel cipollottino di nuovo 2 rocaille 11.0 e rientro nella 8.0 vado a decorare anche questi altri 2 punti e ritorno da voi questo è il risultato come vedete ho decorato appunto tutti i lati e fuoriesco esattamente da questa 8.0 qui queste sono le ultime 2 perline inserite e mi sono appunto posizionata in questa 8.0 adesso rientro in queste due 11 anche nel cipollotto andando verso il basso e rientro anche nella prima rocaille 11.0 qui in basso solo in una inserite 2 rocaille 11.0 e rientrate nella rocaille 11.0 qui in alto quindi io fuoriesco da questa e rientro nella rocaille 11.0 qui in alto adesso rientrate nel cipollotto andando verso il basso rientrate in questa rocaille qui in basso solo nella prima inserite 2 rocaille 11.0 e rientrate nella prima rocaille 11.0 qui in alto stringete bene il filo inserite una 15.0 e rientrate nella 11.0 che viene subito dopo cioè in questa rientrate in queste due 11.0 laterali che vanno verso il basso in questa 11.0 qui in basso di nuovo una 15.0 e rientrate nella 11.0 che viene subito dopo cioè in questa in questo modo abbiamo realizzato questa decorazione attorno al cipollotto questa decorazione serve appunto per non far vedere la sferetta vedete qui si vede un po' la sfera di legno che è presente all'interno con questa decorazione oltre ad abbellire la sfera va anche a a togliere la visuale della sferetta che è presente sotto per andare a decorare un secondo cipollottino ovviamente ripasso in questa 11 in questa 8 qui in basso ripasso anche in queste due 11 rivado nel cipollotto andando verso l'alto rientro nella prima rocaille 11.0 inserite due rocaille 11.0 e rientrate nella rocaille qui in basso eccola qua effetto questa decorazione per tutti i cipollotti e ritorno da voi rieccomi questo è il risultato ho decorato appunto tutti i cipollottini adesso devo ripassare all'interno con l'ago e con il filo all'interno della lavorazione per bloccare e tagliare il filo in eccesso io ovviamente già sono ripassata sono ripassata in questi archetti sia sopra che sotto cioè in questi archetti qui in modo da compattare per bene la sferetta e poi taglio il filo in eccesso e posso utilizzare questa sfera di luce in qualsiasi modo inserendo appunto all'interno un chiodino effettuando le asoline oppure possiamo utilizzarla anche su un cavetto d'acciaio adesso vi mostro cosa ho realizzato con questa sferetta un attimino che accantono questa qui ne ho realizzato un'altra in questa bellissima tonalità sul viola e come vedete ho realizzato questo graziosissimo bracciale ed eccolo qua con tutte le sfere di luce queste tre realizzate con le ovaline in conchiglia queste due realizzate con le ovaline in vetro sono appunto le sfere 2.0 intervallate da queste bellissime perle di acqua dolce e poi qui centrale ho aggiunto la sfera di luce 3.0 in queste bellissime tonalità e ho realizzato appunto il mio bracciale sfera di luce all'interno ho inserito un cavetto d'acciaio e adesso ve lo mostro cavetto d'acciaio rivestito misura 0.46 mm e poi alla fine ho aggiunto uno schiaccino un copy schiaccino e un salvafilo in modo da poter aggiungere il gancino qui il moschettone in acciaio e anche gli anellini in acciaio qui poi ho decorato con una perla sempre di acqua di fiume davvero molto molto carino questo è un modo per poter utilizzare le sferette di luce oppure possiamo realizzare anche una collana perché no o tutta bella impreziosita con queste sfere di luce ma ne bisogna realizzare tantissime per poter fare appunto una collana oppure possiamo realizzare due o tre sferette di luce alternate a delle catene in alluminio oppure alternare proprio tutta la collana in questo modo sferetta di luce, catene in alluminio, sferetta di luce, catene in alluminio in modo da realizzare una collana bella ricca io spero che questa idea creativa sia stata di vostro credimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao a tutte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti